Il regalo più bello che si potrebbe fare ai propri follower è creare collaborazioni ma io adesso nel 2019 mi sto rendendo conto che è sempre più difficile creare collaborazioni con altri influencer ogni giorno ragazzi voi mi chiedete di fare video con questo, con quell'altro, con Pink e con Pallino ma quando li vai a contattare cosa succede? o ti chiedono soldi oppure visualizzano e non rispondono tra influencer, tra youtuber fitness c'è veramente poca collaborazione c'è poco umiltà perché veramente quando contatti una persona per far poi piacere a voi, a voi pubblico per darvi qualcosa in più sì ma quanto mi dai per fare un video con te? ma cosa vuol dire quanto mi do? cioè se facciamo un video assieme ragazzi è per far felice appunto il pubblico per dare qualcosa in più, per far vedere la mia presenza sul tuo canale e per far vedere la tua presenza sul mio canale in maniera tale che i miei follower ti conoscono e i tuoi follower conoscono me per creare collaborazione, sinergia ma cosa ancora più brutta ieri sera dopo l'allenamento di rugby apro le mail del team commando e cosa vado a leggere? vado a leggere che una persona senza fare nomi mi chiede di creare un dissing con lui a pagamento quindi in sorta che cosa è successo? mi ha detto ciao Nathan sono Pinko Pallino ho già provato questa cosa funziona molto come scambio di follower, come scambio di pubblicità io se ti va bene ti offro 800 euro per due dissing proviamo col primo, poi se va bene col primo passiamo anche col secondo dissing tu infami me, cioè io infamo lui, ok? mi dà 800 euro, quindi 400 euro subito e 400 euro dopo col secondo dissing se andava bene, io dovrei infamare lui per 400 euro in maniera tale che abbiamo questa collaborazione questo finto dissing in maniera tale che i miei follower conoscono lui e i suoi follower conoscono me ma è veramente una stupidaggine, io non posso, cioè io non è che non posso non voglio andarmi a sporcare la mia immagine per far finta di litigare con te per 400-800 euro è veramente una cosa assurda, cioè per quale motivo siamo arrivati a questo? allora io mi rendo conto che veramente tutti i dissing che ci sono qui sulla piattaforma di youtube o nei social sono veramente tutte quante delle stronzate alla fine dei conti tutto un giro di soldi tanto per farvi creare delle storie finte, dei litigi finti per che cosa? ma se vogliamo pubblicizzarci, se vogliamo collaborare, facciamolo in maniera positiva, in maniera sana cioè vieni da me, facciamo un video in palestra, facciamo un video sgarrattano, io vengo da te cioè magari ti posso pagare il biglietto del treno se venite da me perché ti sposti ma io sinceramente non ti richiederei neanche mai 50 euro per venire da te chissà dove per fare un video con te quindi veramente ragazzi è veramente difficile creare collaborazioni, sinergie cioè noi del team commander non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno per fare dei video con noi cioè non esiste che io chiedo 1000, 1500 euro quello che è o anche di più perché ci sono youtuber che mi hanno chiesto anche 5000 euro sì ok faccio i video per te 5000 euro, cosa? addirittura uno mi ha chiesto 1000 euro per una storia cioè veramente ragazzi assurdo anche a me ragazzi mi hanno chiesto di andare a fare qualche comparsata in qualche video ma io mi sono sempre spostato molto tranquillamente senza mai chiedere un euro figurati se ti vado a chiedere 50 euro per il biglietto del treno perché vengo a fare un video se ci vengo a fare un video per te lo vengo perché ho piacere di fare un video con te poi ovvio ci sono youtuber, gli influencer, quelli che sono proprio a uno step successivo che sanno milioni, un milione, due milioni di follower capisco loro è il loro lavoro e assolutamente qui non dico nulla mi fanno la proposta e mi dicono io voglio 1000, 2000, 10.000, 5.000 quello che è dopo io mi faccio i miei conti e dico sì ok riesco a fare un video con te ti riesco a pagare, bene lo facciamo oppure ti dico guarda mi dispiace è troppo e non lo facciamo quello non dico nulla perché la gente chiede appunto soldi per fare dissing e vuole fare dissing? perché piace a voi alla fine loro vedono che è il vostro pane che è quello che a voi vi alimenta, quello che porta visual, porta like o dislike, porta tantissimi commenti uno fa il buono, uno fa il cattivo e tutti quanti subito a commentare sotto al cattivo hai fatto il cattivo, hai fatto lo stronzo, non si fa così perché lei l'ha insultato di qua e di là alla fine gira che rigira purtroppo ragazzi siamo noi pubblico che andiamo ad alimentare questa brutta cosa questa brutta cosa e appunto gli youtuber, gli influencer vanno a creare questi finti dissing che poi non dico mica che siano tutti quanti finti non sto dicendo questo, io sto dicendo per un'esperienza che mi è appena capitata ieri sera a prendo appunto le mail del mi commando ho letto questa cosa, mi è stata proposta questa cosa ma mai e poi mai io andrò a fare una cosa del genere io guarda, io faccio i miei video se piacciono, piacciono, facciamo 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 visual non ci interessa, van bene quelle che siano ma di certo non andiamo a inventarci story, inventarci dissing per andare a fare 250.000 visual e per far parlare altre persone sul dissing che noi stiamo facendo perché è così che funziona non è che ci limitiamo a fare il dissing tra il buono e il cattivo no, dopo su questa cosa ci marciano sopra altri magari influencer, youtuber più piccoli che parlano di questo dissing che dicono, ah, Pinco Pallino è stato stronzo perché ha litigato con quello lì quindi è tutto un magna magna, è tutto un giro che rigira per far girare le voci, i follower, i commenti, i like e tutto un bordello del genere ma limitiamoci a fare quello che siamo buoni di fare ragazzi cioè ragazzi faccio video sul fitness, faccio video comici, ironici, sgarro vi piace? Boh, questo sono io ragazzi cioè racconto di me stesso, cerco di darvi messaggi motivazionali contro bullismo sempre, che mi imbatterò sempre per il bullismo, porca miseria sono me stesso, di certo per fare i visual non mi metto a sporcarmi l'immagine, ad insultare altre persone infatti come vedete io cerco sempre di stare fuori da tutti i litigi possibili e immaginabili siamo in Italia, abbiamo un canale fitness quindi è già un canale di nicchia ok, non è un canale di gaming che può piacere a tutti il canale fitness può piacere e non piacere i canali ironici, tutti si fanno una risata da quello alto e quello basso, dal giovane al vecchio per dire tutti invece noi siamo un canale di nicchia in più parliamo in italiano quindi dove vogliamo andare? abbiamo 200.000 iscritti, poco più, poco meno, chi più chi meno ma non siamo nessuno, non siamo in America che il fitness va a gonfiedere ci sono milioni di iscritti, milioni di visual cioè già abbiamo YouTube, Instagram, gli algoritmi che ci abbassano giorno per giorno le visualizzazioni e ci remano contro cioè uniamo le forze e aiutiamoci tra di noi, cavolo il canale Team Commando ragazzi è nato come canale fitness io ho iniziato a fare video a corpo libero appunto per farmi conoscere video appunto su come allenarsi, su una mia alimentazione e tutto quanto poi ovvio ci mettiamo anche qualche video ironico anche per espandersi anche un pochettino per accontentare tutto il pubblico perché magari posso fare un video su addominale che a te ti può piacere ma agli altri 10 magari può piacere un video sulla sgarrata è per quello che cerchiamo sempre di portare un po' tutto quanto di far contenti un po' tutti poi sinceramente dopo ragazzi 3 anni abbiamo già fatto e rifatto video sui pettorali gambe, addominali, sulle diete e bene o male sono sempre quelli ovvio dopo c'è sempre l'allenamento quello con una tecnica di intensità diversa migliore rispetto ad un altro ma alla fine ragazzi siamo sempre lì quindi vorremmo anche cercare di portare sempre rimanendo nell'ambito fitness qualcosa di diverso un format più nuovo magari anche un po' più ironico è giusto ragazzi che ogni tanto faccio anche provo anche di fare qualche video che a me personalmente mi piace poi ci sta che a te ti può non piacere puoi anche scrivergli un commento che non ti piace ma vedrai che sicuramente il video successivo sicuramente ti piacerà quindi cerco sempre di dare un po' a voi un po' a me un po' a voi un po' a me in maniera tale che faccio quello che mi renda anche un po' più sereno e a volte magari può anche non piacervi ma alla fine è giusto così non è che vi deve piacere per forza tutto ciò che faccio come sapete il mio lavoro ce l'ho questo qui è il mio hobby perché mi piace anche interagire con voi quindi può essere anche tra virgolette normale che a volte scappa il video bello chi piace a tutti e a volte invece scappa il video che magari piace meno ma sono alla fine cose che faccio io di mia spontanea volontà capito sono praticamente quello che voi vedete io sono realmente a volte ragazzi nei commenti leggiamo anche che ad esempio questo video l'avete già fatto sì ma magari l'abbiamo fatto due anni fa quindi cerchiamo di riportare qualcosa in maniera un po' più chino più larga appunto anche per i nuovi iscritti perché ogni giorno appunto gli iscritti nuovi crescono, aumentano, arrivano quelli di tre anni fa magari non lo aprono neanche più youtube pensate voi tre anni fa avevano un'età per dire tre anni fa avevano 16 anni adesso magari ne hanno 19 e non guardano neanche più youtube e pensano di più alla gnocca si può dire ok io dico cerchiamo sempre di riportare quello che è stato un po' più importante anche negli anni precedenti ovviamente non tale quale con delle modifiche con qualche aggiornamento appunto in maniera un pochino più larga poi ovvio faccio il video della sgarrata mi puoi scrivere no che non ti piace però ovviamente ricordati che dobbiamo accontentare tutto quanto il pubblico di youtube molto semplicemente tutto qua ragazzi per il momento concludo il video mi raccomando ragazzi cercate di aprire un po' gli occhi non fatevi sempre ingannare da determinate situazioni che appunto si creano qui su youtube e nata una machine qua quindi per chiunque voglia collaborare con il team commando voi follower avete sempre la priorità quindi fatevi sentire fate un po' di rumore e cerchiamo di creare tantissima sinergia tra tutti quanti detto questo ragazzi io vi saluto alla prossima puntata yes pensate che la vostra testa ragazzi è importante che la vostra testa ragazzi che la vostra testa ragazzi è importante che la vostra testa ragazzi che la vostra testa ragazzi che la vostra testa ragazzi che la vostra testa ragazzi